Il tipico Marzio Saulig, Tiger Stemple Angolo Rosso. Forse a posto, all'angolo blu, sarà Sky Force Torino, Alex Medo. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media che dà a tutti l'appuntamento per il prossimo novembre, esattamente il 24 novembre a Torino, Live Off Media. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media. Noi lo ricordiamo come post-organizzatore di Live Off Media. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.